A quella parte ancora di Arrake allontana, il pressing da parte del Napoli con Rullo, Nex recupera il pallone, dentro, Cavaglio! La Serie A si avvicina con Cavaglio, Napoli in vantaggio, 1-0 e segna sempre lui, Emanuele Cavaglio. Ciao Antonio, volevo invitare i sostenitori azzurri e volevo domandargli quale gol mio in passato erano più affezionati. Un abbraccio da Emanuele Cavaglio.